Dopo tutte le ricette che abbiamo creato avremmo potuto dedicarci ad altro e invece abbiamo realizzato la sfoglia più rovida e corposa di sempre per avvolgere un ripieno ancora più ricco e deciso così il tortellino fa sentire di che pasta è fatto nuove sfoglie a grezza ancora una volta ancora più buoni e la scuola d'arte più in là e la scuola d'arte più inizialmente 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 Un pomeriggio e bentrovati al Festival del Futuro continua la nostra tre giorni dopo una mattinata intensa di questo festival che ricordiamo organizzato e promosso dal gruppo editoriale Atesis insieme ad eccellenze di imprese e Harvard Business Review Italia abbiamo parlato del mondo tra globalizzazione stiamo iniziando a parlare del mondo tra globalizzazione e frammentazione che è poi il titolo di questa edizione abbiamo iniziato a parlare di transizione ecologica ma energetica e ce ne sono tanti altri di argomenti di cui ci occuperemo adesso Sì, vedrai, vedrai, è il titolo di una bellissima canzone di Luigi Tenco noi stiamo cercando di vedere insieme stiamo cercando di costruire insieme una visione costruendo sogni se ne è parlato nella prima parte di questa mattinata come dicevi giustamente tu Paola e ci sono terreni inesplorati chi sa essere pioniere chi sa avventurarsi con coraggio e con spirito costruttivo lungo questi sentieri ottiene grandi risultati e sa anche diventare esempio da seguire per chi avrà il coraggio e l'intelligenza di seguirne le orme e questo è il caso del presidente del gruppo Vedrai Michele Grazioni Buon pomeriggio Buon pomeriggio Buon pomeriggio Io direi che sta qua un attimino con noi Sì, volevo evitare di passare davanti Non c'è problema, è il bello della diretta Poi mi dicono che sono scortese Assolutamente no Dicevamo che esiste un enorme terreno inesplorato che propone, oltre a porre ovviamente dei quesiti sul futuro pone anche davanti agli occhi delle potenzialità delle prospettive per chi sa coglierle magari senza mettersi come in autostrada dietro all'auto che ha già i fanali per avere i fari da seguire nella notte ma chi sa anche farsi battistrada e segnare una strada che è inesplorata Sì, in questo caso, rimanendo nella metafora avere un po' di tecnologia che aiuta a guidare nella nebbia è utile quindi ci sono dei cambiamenti che riuscire ad abbracciarli nel momento in cui si sviluppano permettono di vedere il mondo con una chiarezza diversa questo è uno dei casi dove l'intelligenza artificiale indubbiamente nell'ultimo anno e mezzo è diventata di dominio pubblico è entrata nel quotidiano del grande pubblico ma è una tecnologia che fa parte del nostro quotidiano da ormai più di dieci anni quindi è importante capire i suoi pregi, i suoi difetti, i suoi limiti per saperla abbracciare senza la paura che a volte questo nome evoca Vivere e lavorare con l'intelligenza artificiale quindi è possibile diciamo subito di sì ma capiremo meglio adesso con il prossimo panel io presento quindi gli ospiti che si alterneranno mi sposto di qua così li accogliamo invito a raggiungerci sul palco Marco De Vivo direttore associato dell'Istituto Italiano di Tecnologia benvenuto a lei la preghiamo di prendere posto poi invito Cosimo Accotto, Research Affiliate and Fellow dell'MIT a lei ben arrivato Giulia Baccarin, co-founder and CEO di Mipu buongiorno anche a lei mi sono messa in una posizione un po' scomoda io ma non importa Davide Consiglio sarà in collegamento Headed Advanced Analytics di Generali Italia quindi lo vedremo in collegamento e poi in presenza buon pomeriggio a tutti buon pomeriggio eccolo già lì Alessandro Perrino Business Innovation Manager di Fast Web ben arrivato anche a lei dicevamo vivere e lavorare con l'intelligenza artificiale a voi grazie mille buongiorno a tutti cerchiamo di renderla un po' informale un po' divertente perché l'orario dopo pranzo sicuramente non aiuta scusatemi insomma un po' l'inesperienza nel fare il moderatore ogni tanto mi presento dicendo che ho dedicato metà della mia vita all'intelligenza artificiale quindi hanno pensato fossi una persona adatta poi in realtà la mia vita non è stata così lunga e la mia carriera neppure quindi è un po' utilizzare il marketing per vendersi bene però provo a mettermi un po' dalla vostra parte cerco di anche io cogliere il massimo da ospiti che ne sanno molto più di me e quindi cerchiamo di capire come l'intelligenza artificiale può aiutarci sicuramente nel mondo del lavoro ci sta aiutando, sta cambiando il modo in cui noi lavoriamo ma poi cerchiamo di trovare anche delle implicazioni nella nostra vita quotidiana perché siamo arrivati in un momento storico in cui è difficile scendere quanto l'innovazione può stare solo nel mondo business o solo nel mondo privato siamo in un mondo dove l'innovazione è perversiva quindi andando subito al sodo perché sono anch'io curioso di sentire cosa hanno da dire gli ospiti oggi partirei con il dottor Consiglio che è da remoto e gli vorrei fare una domanda in realtà molto molto generale quindi come l'intelligenza artificiale può impattare sul business aziendale e nello specifico della sua esperienza come ha impattato sul suo modello di business? Quanto tempo avete? che sarebbe la risposta breve a questa domanda anche dato l'eccellente panel che è lì presente in sala questa domanda potrebbe avere articolazione in alcune ore provo a sintetizzare in pochi minuti credo sia difficile dare definizioni generali e caratterizzazioni generali dell'intelligenza artificiale in particolare anche data la sua giovane età non scientifica ma di adozione a livello enterprise almeno a scala nelle aziende più grandi io posso raccontare la mia esperienza nata a contatto con l'intelligenza artificiale una decina di anni fa negli Stati Uniti in cui ho visto che non vuol dire che sia la regola ma ho visto nascere applicazioni di intelligenza artificiale per affrontare l'enorme variabilità prima parola chiave la variabilità la varianza socio-demografica statunitense e quindi la complessità nel comprendere le preferenze e i bisogni dei consumatori parliamo del mondo retail poi ci sono altri mondi c'è il business to business ci sono le imprese però parlando del mondo retail enorme variabilità del tessuto socio-demografico americano e quindi enorme necessità da parte delle aziende di comprendere in maniera personalizzata i bisogni e le necessità l'altra è chiaramente quella di anticipare in una società con una enorme mobilità che è la seconda parola chiave dove ho visto applicare l'intelligenza artificiale quindi grandi flussi quindi non solo grande varianza ma grandi flussi socio-demografici e questo impone la necessità da parte delle aziende che vogliono essere vicine ai consumatori poi io in questo momento sono biased perché lavoro in un settore che deve essere vicino al cittadino per costruzione però grandi flussi di mobilità grandi movimenti all'interno della società rendono importante anticipare e conoscere sempre meglio il consumatore il terzo è la possibilità la capacità di conoscere chi entra nel paese quindi nuovi entranti nel paese anche a fronte della mancanza di dati tradizionali come sapete il sistema di credit scoring generale americano si basa sul fatto di avere una storia creditizia e questo per la mia personalissima opinione ha potuto in alcuni casi dello sviluppo sociale americano rappresentare anche un limite perché non consentiva ai nuovi entranti di avere stesse possibilità di accesso al credito e quindi a tutta una serie di servizi che poi la società offre se non ci fosse stata una grande storia creditizia alle spalle ecco alcuni sistemi di intelligenza artificiale analizzando i dati hanno consentito di risolvere questo aspetto l'ultimo aspetto vado un po' più nel mio campo è ahimè quello catastrofale il catastrofale quindi tutti gli eventi naturali e catastrofali che si verificano ormai osodire il catastrofale non è più nella classe dei modelli scientifici di eventi estremi ma è sceso nella classe degli eventi scientifici di eventi rari quindi una classe più in basso e l'intelligenza artificiale qui non è un aiuto è il passaggio dal non risolvere questo tipo di problemi a poter risolvere questo tipo di problemi quindi tutta la capacità di anticipare tutti gli eventi naturali e catastrofali di cui leggete sui giornali che ormai hanno impatto drastico data anche la densità abitativa dei paesi maggiormente sviluppati impone l'utilizzo ad esempio nostro interno aziendale di modelli che possono classificare sempre meglio i rischi territoriali poi ci sono altri aspetti su cui magari mi soffermo dopo più sulla mia realtà aziendale però questo è un po' il quadro generale ripeto con il caveat che è quello che ho toccato con mano perché credo che sia veramente difficile descrivere invece un quadro generale complessivo per l'intelligenza artificiale che ha mille sfaccettature perfetto grazie mille dottor Consiglio cerco di riassumere in due parole per provare anche ad avere un feedback da lei sull'aver capito l'intelligenza artificiale aiuta a mettere ordine nella complessità dei nostri giorni una complessità che è sempre maggiore perché cambia il modo in cui i consumatori esprimono le loro preferenze cambia la tecnologia e cambia il contesto nel quale viviamo corretto e su questo solo un elemento di post-critum pensate a questo venendo all'Italia il bilancio delle famiglie italiane il bilancio di ognuno di noi è cambiato di più negli ultimi due anni che nei precedenti undici per motivi prepandemici per motivi di tassi e per motivi di fondamentali nei precedenti dieci anni il bilancio delle famiglie ha avuto una struttura in questi due anni ha avuto dei cambiamenti maggiori che dei dieci anni precedenti ecco in questo la capacità di sistemi di cogliere rapidamente questi segnali diventa particolarmente importante perfetto grazie mille torneremo dopo ad approfondire questi temi io sono classe 95 quindi sono stato bambino tra il fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000 e per me l'innovazione dove ho visto effettivamente le cose che cambiavano era il mondo di internet quindi all'inizio c'era ancora il vecchio modem dove dovevo chiedere permesso ai genitori per staccare il telefono quindi visto che abbiamo la fortuna di avere il dottor Perrino di Fastweb chiederei come l'intelligenza artificiale sta impattando il settore che per me era più innovativo che quello delle telecomunicazioni intanto prima di tutto grazie per l'invito e buon pomeriggio a tutti quanti voi sia a quelli che sono qui in sala che a quelli che sono a casa allora la domanda non è proprio banale perché sostanzialmente in questi ultimi alla fine 20-25 anni le telecomunicazioni hanno visto un cambiamento epocale delle modalità della tecnologia delle bande delle prestazioni e anche dei servizi che hanno abilitato mi ha giustamente fatto venire in mente poco fa il fatto che alla partenza di Fastweb le connessioni delle case degli italiani erano tendenzialmente basate su tecnologia oggi non si usa più neanche il termine DSL se lo dico forse qualcuno lo sa cos'è forse qualcuno no tendenzialmente bande diciamo veramente diverse da quelle di oggi l'innovazione che portò al tempo Fastweb poi dopo mi fermo con la pubblicità dell'azienda per la quale lavoro fece un salto vocale da pochi k a 10 mega e ci fu veramente un salto abbastanza importante e questo ha aperto tante possibilità tanti servizi oggi siamo come anche sentivo prima nei panel di questa mattina in un momento particolarmente importante epocale per tanti motivi epocale anche perché oggi le tecnologie sono tali per cui è possibile fare quello che parlando di intelligenza artificiale 80 anni fa si immaginava quando Alan Turin pensava alle macchine intelligenti pensava a qualcosa che sognava mi viene in mente l'intervento di Dishora poco fa il dream building pensava a un sogno e lo immaginava oggi quello che fu immaginato da questi personaggi è realizzabile ci sarà anche tanto altro da fare ma è realizzabile con i pro e con i contro in Fastweb in un telco anzi quali sono i benefici che questa tecnologia può portare può portare i benefici da tanti punti di vista sicuramente nella parte di ottimizzazione dei processi un'azienda che sposta pacchetti assomiglia molto a un'azienda che sposta pacchetti di cartone tanto per fare un paragone una piccola metafora per far capire e alla fine le complessità dello spostamento dei pacchetti per quanto possono essere in un caso virtuale e in un altro caso fisici alla fine non sono molto diverse vanno indirizzati i pacchetti dal punto A al punto B sorgente destinatario e vanno organizzati in modo tale che percorrano il percorso migliore come fare a farlo? ecco che i protocolli di routing di memoria attuale cioè di memoria a quelli che attualmente stiamo utilizzando sono ottimi ma è possibile fare molto di più magari l'intelligenza artificiale su questo ci sono dei tavoli di studio in fast rub per fare in modo di capire se questo può ottimizzare ma alla fine l'ottimizzazione cosa porta in questo senso e poi ce ne sono anche altri porta risparmio energetico forse non si sa ma l'etelco insieme alle metallurgie insieme alle altiforni insieme alle altre aziende e fra le più alte energivore aziende che sono in Italia risparmiare sul traffico significa anche risparmiare in consumi energetici prima si parlava di consumi energetici risparmiare in consumi energetici significa anche dare un contributo per quanto piccolo o per quanto grande possa essere a quello che è la situazione climatica che abbiamo che tutti quanti stiamo vivendo un altro filone che stiamo portando avanti riguarda sostanzialmente l'utilizzo dell'intelligenza artificiale negli rapporti con il pubblico il contact center sappiamo benissimo che è una diciamo un'interfaccia dell'azienda verso il pubblico esterno l'ottimizzazione dell'interfaccia verso il pubblico è sicuramente una cosa da fare recentemente è stato lanciato un servizio che si chiama Fast2BI scusate ancora la comunicazione marketing ma si vede sul sito che usa la Genet2BI come modello con la quale poter comunicare con il pubblico in un modo diverso un pelo più non voglio usare il termine intelligente perché è eccessivo un pochino più fluido e questo porta sicuramente a un miglioramento un miglioramento per i servizi rivolti ovviamente a tutti quanti noi e un miglioramento per quelli che poi sono benefici che possiamo ottrare non so quanto è un po' ancora a disposizione no basta ok va bene perfetto grazie mille Alessandro dalle tue parole mi sembra di cogliere quanto comunque gli effetti di una tecnologia digitale siano molto concreti un'azienda di telecomunicazioni è facilmente assimilabile negli effetti dell'intelligenza artificiale ad un'azienda più tradizionale più manufatturiere quindi coglierei l'assist per chiedere alla dottoressa Baccarini in termini di efficienza delle aziende manufatturiere cosa sta facendo e cosa può fare l'intelligenza artificiale l'intelligenza artificiale può sicuramente molto direi in cinque ambiti fondamentali che sono la produzione la manutenzione l'energia la qualità e la logistica e volendo diciamo fare un esempio concreto facciamo finta che io abbia un'azienda che produce prodotti prodotti da forno ecco potrei voler sapere ad esempio se le fette biscottate sono più energivore per unità di prodotto dei biscotti e magari decidere che adesso sempre con l'esempio in quanto lo sono sia il caso di produrle nel momento in cui ho il fotovoltaico al suo picco lasciando i prodotti meno energivori quando invece non ho produzione da energia rinnovabile al tempo stesso posso anche calcolare in maniera semplice sempre con tecniche alle volte derivanti dall'intelligenza artificiale altre volte con tutto lo spettro delle tecniche predittive di cui ricordo nonostante diciamo il clamore di questa nuova tecnologia l'intelligenza artificiale è solo una delle possibilità posso pensare che un determinato tipo di prodotto restiamo sempre nei prodotti da forno provochi nella mia linea una durata di vita residua dei macchinari inferiore a un'altra in altre parole se produco il prodotto A potrò avrò tot cicli di lavorazione con il prodotto B ne avrò di più anche questi sono tutti calcoli che una volta si potevano fare ma che implicavano ore e ore di ingegneria di manutenzione perché appunto derivanti dalla matematica quindi necessitavano di simulare correttamente il processo di fare gli scenari eccetera eccetera oggi con l'intelligenza artificiale è possibile fare tutti questi scenari di simulazione nel giro di pochi minuti e l'intelligenza stessa funge un po' da copilota non solo nel più comune mondo dei chatbot ma anche proprio nel mondo dell'efficienza operativa industriale in altre parole all'interno degli n scenari di simulazione che prendono che cosa dovrò produrre quanta energia consumerò per produrlo se tutte le macchine saranno pulite e funzionanti quando lo dovrò fare se avrò dei difetti mi diranno qual è il settaggio ottimale della mia fabbrica per arrivare a fare ciò che devo fare con il maggior beneficio economico e ambientale possibile perfetto quindi predizioni e simulazioni per capire prima i possibili effetti di una decisione di un processo e quindi scegliere oggi quello che sarà il processo ottimale esatto e anche ottimizzazione operativa appunto un copilota della mia fabbrica perfetto a proposito di capire prima quello che succederà andiamo in un ambito come quello della ricerca dove ovviamente si sta parlando di futuro di investimenti importanti quindi dottor De Vivo le chiedo secondo lei il ruolo dell'intelligenza artificiale all'interno dell'innovazione tecnologica della ricerca qual è stato qual è e quale sarà sì dunque bisogna partire con l'accettare che questo strumento avrà un impatto trasversale a tutti i campi scientifici lo stiamo vedendo abbiamo visto alcuni risultati di cui adesso vi accenno che hanno veramente dimostrato la potenza di questo strumento ora per spiegare perché c'è questo impatto parto dalle basi di come può avere questo impatto ci sono alcuni fattori chiave che oggi rendono il machine learning in particolare cioè la macchina che impara dagli esempi e quindi diventa sempre più brava a predire è possibile uno sono la quantità di dati oggi stiamo accumulando sempre più dati quindi la quantità di esempi da cui imparare il secondo è la qualità degli esempi quindi se abbiamo buoni esempi saremo ancora migliori nell'imparare da questi esempi per esempio all'istituto di treno e tecnologia facciamo un lavoro ora dettagliato per creare quelli che sono i database curati cioè con dati che sono di qualità ma che sono anche curati nel senso di essere labellati cioè bisogna essere in grado di andare e pescare il dato che non sempre poi è così ovvio specialmente se stiamo parlando di problemi complessi nella chimica nella biologia nella neurofarmacologia eccetera è banale un'altra componente sono gli algoritmi quindi abbiamo chi si occupa ancora oggi di ottimizzare gli algoritmi di machine learning cioè rendere questo processo ancora più efficiente e quindi vi faccio per esempio poi c'è l'ultimo fattore che è la potenza di calcolo che sta diventando sempre più impattante e quindi siamo è per questo che il machine learning oggi ha di fatto questo impatto anche nella scienza perché gli algoritmi c'erano anche decenni fa alcuni ma oggi siamo in grado di usarli sulla quantità di dati che vi dicevo di una buona qualità e con algoritmi giusti l'esempio vincente è stato in campo scientifico per esempio Google DeepMind bravissimi si sono messi nella posizione giusta cioè hanno preso un database di quelle che sono strutture di proteine ora le proteine sono oggetti tridimensionali tanto quanto qualsiasi cosa intorno a voi solo che stiamo parlando di oggetti molto molto piccoli però nell'arco di 50 anni oltre di esperimenti abbiamo determinato una quantità di strutture di cui abbiamo incredibilmente la forma tramite i raggi X ora ogni volta però dovevamo rifare gli esperimenti per determinare una nuova proteina ora utilizzando questo database Google con machine learning ha dimostrato di poter predire la struttura di una nuova proteina il che apre un sacco poi di studi a seguire per esempio nella scoperta farmaci con una precisione incredibile perché poi venivano verificate con quelle che venivano poi determinate con i raggi X e abbiamo ora un database di 200 milioni magari non so se vi trasmetto l'impatto ma 200 milioni di strutture di proteine che avremmo generato in chissà quanti anni di lavoro sperimentale che sono già disponibili quindi questo è un impatto incredibile e questo si può tradurre poi in ogni campo scientifico quindi dal campo chimico di cui io mi occupo ma lo possiamo trasferire poi alla scienza dei materiali alla scienza dei farmaci quindi è davvero un impatto che si ha anche alla frontiera della scienza quindi bisogna essere pronti a utilizzare questo strumento esatto questo è forse uno degli aspetti più rilevanti mi collego a quanto dicevi prima non è la sola tecnologia che ha portato questa innovazione è la quantità di dati che generiamo la quantità di dati che sappiamo elaborare visto che parliamo anche di un contesto di lavoro con un ritorno sull'investimento positivo all'inizio degli anni 80 dove le prime reti neurali erano state teorizzate e venivano utilizzate in centri di ricerca probabilmente non era conveniente investire su una tecnologia e su una potenza di calcolo non sufficiente a portare un ritorno adesso siamo arrivati ad un punto in cui utilizzare queste tecnologie diventa profittevole e permette delle nuove evoluzioni poi ci torneremo comunque tecnologie esponenziali ma le persone rimangono sostanzialmente sempre le stesse quindi non siamo in grado di adattarci velocemente come le tecnologie al cambiamento e quindi volevo chiedere al dottor Accoto quali sono le principali sfide culturali dell'intelligenza artificiale e eventualmente i vantaggi o gli svantaggi che crede possano portare sì credo che per comprendere il passaggio che viviamo dobbiamo un po' collocarlo storicamente noi siamo in una fase evolutiva progressiva dell'automazione delle capacità umane abbiamo cominciato qualche tempo fa automatizzando la forza fisica e abbiamo sostituito e potenziato gli umani mettendo le fabbriche mettendo le macchine dentro le fabbriche che facevano lo sforzo fisico al posto dell'umano poi abbiamo meccanizzato alcune capacità logiche abbiamo creato le macchine calcolatrici 2 più 2 fa 4 2 più 2 prima la faceva la mente umana adesso lo fanno le macchine e stiamo proseguendo non è soltanto fare il calcolo 2 più 2 ma come raccontavano anche loro diciamo così e meccanizzare e automatizzare altre capacità cognitive umane come ad esempio riconoscere gli oggetti o processare il linguaggio naturale umano riconoscere gli oggetti vuol dire che oggi le macchine attraverso telecamere sensori sono in grado di riconoscere l'oggetto questa era una cosa che faceva l'umano da solo fino a qualche tempo fa e questa è una capacità cognitiva che le macchine sono in grado oggi di simulare la stessa cosa per il processamento del linguaggio naturale umano finora eravamo noi gli unici in grado di scrivere e parlare adesso arrivano macchine che sono in grado di riconoscere il testo quindi visivamente riconoscono le lettere ma non soltanto riconoscono ma sono in grado anche di scrivere testo di generare testo nuovo per alzata di mano quanti conoscono chat GPT ok quanti sanno come funziona ma sanno molto bene come funziona comunque ha una capacità di simulare il linguaggio naturale umano allora queste possono sembrare semplicemente avanzamenti tecnologici ma in realtà io dico sono delle provocazioni culturali da qui il tema provocazioni culturali vuol dire la scrittura è ancora prerogativa solo dell'umano o possiamo ospitare dentro la nostra società macchine che scrivono e che parlano o per quanto concerne le fotografie avete visto le fotografie di Papa Francesco che indossa il piumino foto estremamente realistiche no finora le fotografie abbiamo a scuola ci è stato insegnato che a meno che non siano manipolate sono copia abbastanza approssimata dell'originale se io vedo le foto della regina Elisabetta posso dire ok questa foto si avvicina molto alla faccia al volto della regina Elisabetta a differenza della pittura se io vedevo i dipinti di un tempo non potevo dire la stessa roba adesso abbiamo una tecnologia l'intelligenza generativa che è in grado di fare una fotografia di Papa Francesco senza che ci sia Papa Francesco allora questa è un'altra provocazione culturale che cos'è l'immagine l'immagine ha ancora una relazione col reale oppure abbiamo dato un taglio per cui adesso quando vedremo una fotografia realistica d'ora in poi la prima cosa che dobbiamo fare è sospendere il giudizio perché il nostro occhio non è educato non sarà più riconoscere una fotografia vera da una fotografia falsa perché l'intelligenza artificiale è in grado di fare questo lavoro allora per questo io dico e questo ovviamente produrrà anche degli scompensi a livello di occupazione perché saper fare queste cose vuol dire saper lavorare facendo queste cose se finora queste erano solo prerogative umane solo l'uomo lavorava facendo queste cose adesso ci sono delle macchine che sono in grado di lavorare sostituendo e qualcuno dice potenziando ma dobbiamo anche riconoscere sostituendo alcune delle capacità lavorative da qui tutti i temi della disoccupazione tecnologica che è tornata perché finora qual è la cosa che ci preservava e qui vado a chiudere che non riuscivamo a spiegare alle macchine come fare le cose per cui ci sentivamo abbastanza protetti ma adesso come si diceva prima ci sono macchine che sono in grado di fare le cose senza che noi gliele insegniamo e quindi quella cautela che ci aveva un po' preservato adesso cade il paradosso di Polani adesso cade non c'è bisogno di sapere come facciamo le cose per descriverle alle macchine per fare in modo che queste le facciano questo apre nuovamente degli orizzonti incerti e a queste provocazioni e chiudo dobbiamo poi rispondere naturalmente portandoci a casa le potenzialità negoziando le criticità ma facendo poi innovazione culturale poi magari ci torno ci torno dopo noi dobbiamo essere pronti a rispondere a queste provocazioni culturali la parola è ancora solo dell'umano l'immagine ha ancora un referente nel reale oppure no queste sono domande culturali grazie Cosimo in realtà questo è un tema talmente caldo che vorrei rimanerci un attimo perché insomma il mio accento bresciano è difficile da tradire e nello stato di Whatsapp di mio papà c'è scritto l'emmeina una volta che 30 è meglio farlo una volta che ripeterlo 30 e non ci voglio di andare a casa con tutta questa incertezza paura quindi cosa possiamo fare come possiamo preparare le istituzioni la società a vivere in un contesto così incerto dove l'intelligenza artificiale è centrale partiamo col secondo giro sì partiamo col secondo giro facciamo che è tutto primo secondo probabilistico allora alle provocazioni culturali si risponde in n modi uno l'educazione scolastica di tutti i tipi noi dobbiamo rapidamente aggiornare il nostro panorama scolastico educativo formativo eccetera negli ultimi dieci anni 2012 2022 le macchine in alcuni test ci hanno superato il riconoscimento dei test il riconoscimento dell'immagine eccetera questo non può rimanere senza impatto questo lo capite bene voglio dire 2010 2012 2022 quando le macchine hanno imparato a fare delle cose primo quindi educazione formazione e capire quali saranno le discipline le materie e come ci prepareremo diciamo così ai lavori del futuro come li creeremo come li stiamo creando se li stiamo creando molti dicono che il saldo sarà positivo tra i lavori che perdiamo e che acquistiamo di quelli nuovi tra l'altro ce ne sono prompt engineering la persona che dà mandato alla macchina di fare le robe se avete usato già GPT voi avete usato i prompt lo stimolo perché lui risposta allora quella può diventare una professione almeno diciamo così ad oggi quindi sicuramente come dire educarci in modo nuovo e formare professioni nuove anche diciamo così e in parte lo stiamo facendo non credo con l'impatto che sarebbe necessario poi c'è tutto un tema regolatorio se vuole etico regolatorio e qui anche qui voglio dire siamo stati un po' cauti e abbiamo un po' rallentato le nostre riflessioni adesso siamo in accelerazione il presidente Biden ha fatto un ordine esecutivo recentemente per dare mandato alle agenzie federali di sviluppare degli standard se effettivamente l'intelligenza artificiale è utile creiamo degli standard in modo tale che le criticità le vulnerabilità vengano in qualche modo mitigate perché ci serve l'Unione Europea ci sta riflettendo la Cina ha proposto i suoi principi e all'articolo 4 dice che l'intelligenza artificiale cinese non dovrà come dire mettere in questione il socialismo il socialismo cinese e quindi capite bene che ogni parte del mondo in qualche modo sta cercando di modellare e governare la tecnologia a suo modo a sua immagine e somiglianza potremmo dire usando una parola così e dovrà essere fatto un grande sforzo l'Unione Europea adesso sta riflettendo su queste cose ma l'arrivo dei modelli linguistici su larga scala ha rimesso di nuovamente un po' in subbuglio le cose ultimo aspetto direi l'innovazione culturale quindi educazione abbiamo detto etica e politica educazione e formazione etica e politica innovazione culturale per rispondere alle provocazioni qui siamo chiamati uno sforzo culturale intellettuale non nuovo all'umanità e poi qui chiudo anche in passato noi abbiamo affrontato nuove tecnologie che introducevano nuovi concetti di vero e di falso un po' come accade con le intelligenze artificiali generative quando abbiamo inventato la stampa la scrittura e poi la stampa abbandonando le società orali e non è che si stampavano e si scrivevano solo documenti veri come capite bene appena arrivata la scrittura e la stampa il criminale di turno produceva scriveva testi falsi e per secoli siamo andati avanti non avendo modo di distinguere un documento vero da un documento falso fino a quando un umanista Lorenzo Valla 1440 inventa innovazione culturale inventa un sapere che non esisteva fino al 1440 che poi si è chiamato filologia che è la scienza che è in grado di distinguere un documento scritto vero da un documento scritto falso lui lo faceva sulla donazione di Costantino il falso credito la vendita Costantini donazione la chiesa come dire utilizzava un documento che loro dicevano essere stato scritto dall'imperatore Costantino per testimoniare il dominio temporale sulle terre quel documento era falso ovviamente fino al 1440 l'abbiamo ritenuto vero e abbiamo sviluppato una civiltà in questo modo ecco noi dobbiamo fare lo stesso sforzo che fece Lorenzo Valla inventare i saperi le criptografie non è che siamo digiuni diciamo così di nuove tecniche ma inventare le tecnologie che ci consentiranno di portarci a casa il valore e le opportunità come è stato raccontato dell'intelligenza artificiale e che però ci preservi dalle criticità e dalle vulnerabilità che naturalmente incontreremo e che già stiamo incontrando diciamo grazie mille Cosimo con Lorenzo Valla mi hai fatto rinascere dei ricordi del liceo quindi mi hai fatto anche venire in mente una provocazione che tengo alla fine perché voglio estendere a tutti i panelist andiamo sull'aspetto un po' più pratico dell'intelligenza artificiale perché io mi ricordo quando insomma qualche anno fa mia non era ancora in vita passavo i venerdì a spiegare quale fosse il mio lavoro e alla fine sono arrivato a dire riparo stampanti perché lavorare con l'intelligenza artificiale non era qualcosa di facile comprensione però quello che ho capito è che gli esempi pratici possono aiutare quindi chiederei al dottor Consiglio in collegamento se ci può spiegare nella pratica come in generali utilizzate l'intelligenza artificiale cercando di far cogliere l'aspetto operativo di quello che fate certo allora tralasciando tutta una serie di applicazioni interne come potete immaginare per i nostri volumi ottimizzare e automatizzare anche piccole parti di processi interni garantisce minori rischi minori errori e maggiore efficienza operativa però sono attività diciamo di back office definirei vi cito invece un po' più in dettaglio il principale caso cliente dove applichiamo l'intelligenza artificiale che è il cosiddetto crash detector allora una parte delle nostre polizie auto è dotata della cosiddetta black box che registra in caso di incidente alcune informazioni come le tre forze gravitazionali la velocità all'impatto e qualche altra informazione in aggiunta a questo alcune black box hanno un sistema cosiddetto di emergency call dove se il cliente si trova in stato di incidente o anche di necessità può schiacciare un bottone e chiamare la centrale operativa che manda una chiamata e verifica qual è il tipo di soccorso necessario carattrezzi ambulanza forze dell'ordine eccetera allora integrando i dati della black box abbiamo sviluppato un sistema predittivo che comprende se ha un segnale di shock che la black box riceve discrimina se è una buca o se è un vero e proprio incidente e se è un incidente fa partire una chiamata che verifica con il cliente se è effettivamente un incidente e se il cliente conferma che è un incidente passa la chiamata all'operatore e fa attivare i soccorsi ecco questo è particolarmente utile perché è un servizio innanzitutto è l'unico vero servizio ad oggi completamente aggiuntivo rispetto ai processi tradizionali questo è un servizio che in alcuni casi a prechiudo parenti in alcuni casi tu hai una campagna di marketing un workflow o qualsiasi cosa che fai in modo tradizionale con l'intelligenza artificiale la migliori qui invece senza intelligenza artificiale non è possibile fare questa cosa perché il numero di falsi positivi sarebbe enorme chiameremmo tutti i clienti e non avrebbe fatto l'incidente quindi qui con l'obiettivo di massimizzare per i tecnici la recall quindi di trovare tutti quelli che a fronte di uno shock hanno fatto effettivamente un incidente facciamo invece con un modello di intelligenza artificiale partire una telefonata che si aggiunge al normale servizio al cliente che è quello che descrivevo prima emergency call o quant'altro l'altra diciamo la potenza dell'integrazione dei dati con le tecnologie più moderne ha fatto sì di poter risolvere questo problema ma come potete immaginare che non ha una forma funzionale definita perché non c'è nessuna letteratura al mondo che mi dice che una data forza centrifuga per una data accelerazione vuol dire incidente e un'altra vuol dire che è una buca è un modello che ha imparato analizzando una grande mole di dati ecco questa è l'ottica nella quale prendiamo l'intelligenza artificiale da noi quindi servizi o di ottimizzazione o come quello che vi ho descritto aggiuntivi rispetto rispetto alla pratica tradizionale nell'ottica di dare qualcosa in più ai nostri clienti come potete immaginare questo ed è questa è la cornice nella quale ci muoviamo in tutti i modelli perché per noi essendo regolati a prescindere da tutte le nuove regolamentazioni sull'intelligenza artificiale ogni tanto mi chiedono se è preoccupato dell'AI act eccetera francamente no l'AI act per noi spingerà la standardizzazione la scala la riduzione di test in giro per l'azienda che magari non hanno particolare valore per il cliente o per le nostre reti ma per il resto non sono preoccupato perché è già all'interno di una cornice regolatoria che noi già seguiamo perfetto grazie mille mi collego ad una frase che mi ha colpito molto perché l'intelligenza artificiale non è sbucata dal nulla l'intelligenza artificiale è un'evoluzione di alcune tecniche statistiche che esistono da diversi decenni ma l'intelligenza artificiale ha abilitato la risoluzione ad un problema che era noto che prima non aveva soluzione quindi nel vedere l'aspetto pratico dell'intelligenza artificiale secondo me è sempre importante collegarlo al duplice aspetto da una parte risolvere problemi noti che prima non avevano una soluzione dall'altra come ad esempio nel caso della ricerca riuscire ad andare a scovare dei nuovi problemi che prima erano domande che non ci facevamo perfetto grazie mille Davide dopo se resti collegato per l'ultima provocazione che mi è venuta in mente abbiamo tempo per farle quindi mi piacerebbe farla anche a lei va bene Alessandro in Fastweb continuiamo dal discorso di prima come la applicate operativamente allora per l'applicazione ci sono diverse modalità seguiamo sostanzialmente due filoni uno tecnologico la tecnologia diciamo in qualche modo ci è non voglio dire familiare ma comunque in qualche modo è necessaria per fare quelle cose che poi dopo vado a raccontare e l'altro invece è la cultura della formazione per quanto sia possibile avere delle competenze queste competenze invecchiano molto rapidamente purtroppo o per fortuna quindi è necessario mantenere continuamente lo skill elevato delle persone che lavorano in quest'ambito per far sì che possano utilizzare meglio la tecnologia la tecnologia corre veloce e da necessità di tanti componenti chiaramente la componente di trasporto quella è facile ma anche la componente di calcolo e anche la grande molle di dati necessaria per fare tutto l'addestramento delle piattaforme machine learning deep learning e quant'altro quella è una componente l'altra è la formazione come dicevo prima la formazione perché permette sostanzialmente di utilizzare bene la tecnologia giusto ieri parlavamo in azienda facendo un corso sull'intelligenza artificiale per principianti perché non tutti sono del settore anche in fast-world sostanzialmente ma in tutte le aziende sono chi si occupa dell'argomento chi fa altro perché possa essere abbastanza diffuso per permettere a tutti quanti di avere una buona consapevolezza delle tecnologie perché usarla bene è fondamentale è fondamentale perché usarla bene significa usarla a proprio beneficio ma evitare di incappare in quelli che possono essere gli errori della tecnologia stessa che poi a volte vanno sotto il nome di bias ma non solo usarla bene significa quindi fare in modo di conoscerla per quanto necessario all'interno di questi giocattoli c'è tanta intelligenza artificiale che tendenzialmente non è che noi usiamo molto bene una di queste prime piattaforme che Apple inserì nell'iPhone nel 2014 se non ricordo male è ancora oggi utilizzata si chiama Siri per fare un po' di pubblicità ma non la conosciamo tutti ed è un assistente che è utilissimo se usato bene altrimenti è tempo perso con l'intelligenza artificiale generativa si possono fare molte cose basta però scrivere bene un prompt ecco che come prima il professore diceva è necessario avere dei specialisti nella creazione di prompt corretti fatti bene con l'intestazione corretta con il corpo corretto con il contesto corretto in modo che dia una risposta corretta ecco che vengono quindi fuori gli ingegneri del prompt ma non solo gestire bene i dati è importante questo tutto questo è necessario farlo con delle competenze torno su questo perché è molto importante questo aspetto non è così facile io che lavoro in questa azienda trovare persone che abbiano queste competenze e capacità visto che abbiamo qui nel panel un professore rivolgo se vogliamo la domanda se vogliamo quasi diretta avere delle professionalità pronte per essere inserite in azienda non è così facile faccio spesso colloqui con ragazzi anche neoloreati che dovrebbero essere pronti a sviluppare algoritmi come se non ci fossero domani invece poi scopro che questo non è è vero quelli che magari ci sono sono capaci però spesso bontà loro ma qualcuno domani lo diceva fanno un'esperienza all'estero entro lì e dovrebbero tornare e non sempre tornano e questo però per noi è un grosso problema perché poi alla fine ripeto come dicevo prima è quello che fa la competenza la differenza è un po' l'esempio di avere una macchina bella nel parcheggio o meglio nel garage senza fare nomi ma una supercar nel garage e non essere capace di guidarla è un po' un controsenso quindi la cultura la formazione se vogliamo aggiungere anche l'etica sono quelle componenti fondamentali che insieme alla tecnologia riescono a fare fare tanto tutto questo l'ho detta magari in modo un po' diciamo anonimizzato ma viene fatto in azienda e poi gli effetti si vedono su quelli che sono i servizi che vengono offerti però non so se diciamo che il mio tempo è finito grazie perfetto grazie mille professore se vuole controbattere abbiamo avuto una domanda quindi è giusto dar risposta io ritengo che la formazione sia assolutamente centrale e che la scuola non faccia la sufficienza è vero che le tecnologie accelerano lo abbiamo detto spessissimo ma noi siamo in ritardo siamo in ritardo rispetto allo studiare internet siamo stati in ritardo rispetto all'arrivo dei social media siamo stati in ritardo e siamo oggi in ritardo rispetto all'arrivo dell'intelligenza artificiale è chiaro che come dire è molto accelerata ma è anche vero che noi siamo molto fermi almeno in Italia diciamo così io per riflettere sui temi per esempio della filosofia della tecnologia sono un po' scappato perché rimanendo dentro le facoltà di filosofia più che studiare cante sent'agostino non si riesce a fare mentre oggi sarebbe necessario fare filosofia della blockchain filosofia dell'intelligenza artificiale filosofia dei criptosistemi filosofia della computazione quantistica adesso noi stiamo parlando soltanto di intelligenza artificiale ma tenete conto che sono almeno quattro le rivoluzioni scientifiche che da scienza stanno diventando ingegneria cioè da strumento tecnologico diventano soluzioni progetto ingegneristico diciamo così il che vuol dire che lasciano i laboratori e entrano nei mercati nelle nostre vite e così via intelligenza artificiale blockchain e criptosistemi la biologia sintetica e la computazione quantistica noi dovremmo formare persone su questi ambiti perché questi sono gli ambiti che aprono gli orizzonti dello sviluppo tecnologico futuro ripeto siamo indietro le tecnologie accelerano ma noi siamo indietro sono d'accordo dopo nell'ultima domanda andiamo a toccare questo tema da un'altra prospettiva adesso passerei ad un termine di cui magari si parla spesso che è quello delle smart cities e chiederei a Giulia visto che voi avete sviluppato Mipu smart cities che è una piattaforma appunto a supporto di questo tipo di innovazione come la tecnologia che voi avete sviluppato può essere utile per la gestione del traffico per i servizi urbani la gestione dei rifiuti e così via Mipu smart cities è un'iniziativa che abbiamo creato lo scorso anno un po' per il compleanno dei dieci anni della nostra azienda cercando di mediare le soluzioni realizzate già per il mondo della fabbrica nel mondo della città in maniera da poterle se vogliamo anche divulgare in una maniera molto leggera molto sostenibile alle amministrazioni pubbliche che ne facessero richiesta alcuni esempi belli di questi anni sono ad esempio una intelligenza artificiale ottimizzatrice per l'allocazione dei fondi pubblici ad esempio noi l'Italia ha ricevuto un certo ammontare di denaro dall'Europa questi fondi sono spesso vincolati dal fatto che una determinata voce di finanziamento può venire utilizzata solo per un tipo di spesa un'altra in una determinata regione un'altra perché il lavoro finisca ad esempio entro dicembre e non entro gennaio è necessario quindi prendere questo paniere di finanziamenti facciamo finta siano 100 miliardi e capire intanto in un primo momento statico come allocare al meglio tutte le voci e tutti i finanziamenti con tutti i progetti ma poi è anche necessario continuare a fare in maniera dinamica questa allocazione perché appunto supponendo che io non finisca il lavoro entro dicembre ma lo possa finire in gennaio non potrò più utilizzare quel finanziamento che avevo immaginato all'inizio per quel lavoro dovrò prenderne un altro e allora così facendo giocare un po' a questa sorta di Tetris ecco l'intelligenza artificiale è eccezionale nel fare questa simulazione sia nel primo momento che poi la simulazione statica dinamica scusate nel caso specifico parlavamo di una cifra che non riesco a immaginare pur avendo visto io anche l'epoca delle lire naturalmente di solito uno traduce per ricordarsi quanti soldi davvero sono comunque parliamo di 80 miliardi di euro che prima venivano allocati da un team di persone comunque lasciando un po' sul piatto ecco consentitemi di dire comunque delle cifre molto importanti l'intelligenza artificiale riesce a combinare tutte le voci a fare l'allocazione nel giro più o meno di un paio d'ore con una capacità computazionale normale più veloce avessimo a disposizione altri tipi di supporti comunque lascia sul piatto 80 centesimi che è una cosa se vogliamo sensazionale ecco questo è uno uno degli esempi un altro esempio e vado molto veloce è un'intelligenza artificiale che individua prevede diciamo nel momento prima si chiama now casting comunque le onde di piena e suggerisce come alzare e chiudere le paratoie in maniera da fare all'acqua il miglior deflusso possibile tenuto conto di non avere problemi sulle città sui paesi a valle tenuto conto di consumare i greti dei fiumi in maniera più o meno costante quindi dare a ciascun diciamo fiume o canale la portata che può sopportare e qualora esistano dei bacini idroelettrici di diciamo sfruttare al massimo i bacini di accumulo per produrre energia elettrica nel momento in cui ne ho bisogno diversamente tenere l'acqua accumulata anche questo è un esempio reale qui diciamo lo posso dire l'abbiamo fatto per un'azienda e per un'amministrazione che si sono messe insieme in alto adige che lo sta riportando su tutti diciamo su tutte le dighe i bacini e le situazioni i paesi del nostro arco alpino ecco qui il punto vero non è tanto che cosa si può fare per le nostre città perché sostanzialmente la tecnologia oggi può fare moltissimo forse siamo più limitati dalla nostra immaginazione che non dalle capacità dell'intelligenza artificiale io trovo che il problema fondamentale nel nostro paese e anche molti altri sia la scalabilità cioè quanto velocemente noi sapremo scalare le innovazioni che facciamo bene in un singolo punto in tutte le altre situazioni noi oggi abbiamo intelligenze artificiali che possono individuare la presenza ad esempio di una cellula tumorale incipiente mesi prima che qualsiasi buon patologo riesca a individuare eppure quando dobbiamo sottoporci diciamo a questo tipo di indagini diagnostiche a parte il tempo d'attesa in realtà siamo anche vittima un esempio personale vissuto davvero del fatto che in una determinata struttura sanitaria la macchina diagnostica abbia un rapporto segnale rumore diciamo mediamente aneguato nell'altra molto prima basicamente vuol dire che se vado all'ospedale X mi diranno che ho qualcosa se vado all'ospedale Y mi diranno che va tutto bene quindi ecco questo tema di scalabilità tecnologica il copia e incolla come riusciremo a farlo in che tempi ci daremo delle regole tal per cui se uno fa una soluzione veramente buona e che aiuta il progresso dell'umanità sia imperativo categorico come diceva Kant copiarlo incollarlo dappertutto io credo che questa ancora più dell'innovazione sia la vera sfida del nostro futuro grazie mille per gli spunti parlando di investimenti Marco qualche esempio pratico di start up venute dall'istituto di tecnologia che usano l'intelligenza artificiale certo pronto dunque partiamo parto col dire che l'istituto ha oltre 30 start up innovative che hanno sviluppato la scienza di base quindi partiamo proprio da concetti fondamentali fino ad arrivare al trasferimento tecnologico quindi ne prendo alcune ma in verità forse potrei fare più esempi vado da un esempio in robotica quindi c'è una start up innovativa proteso che sviluppa un esoscheletro che riesce a ridistribuire in tempo reale il peso sull'utente in maniera che non si vada incontro a problemi fisici per chi fa lavori diciamo pesanti e quindi questo è un esempio in cui il machine learning viene usato per interpretare in tempo reale i dati e quindi ridistribuire in maniera equilibrata su questo esoscheletro lo sforzo un altro esempio che posso fare è Corticale Corticale è una start up in cui hanno sviluppato quello che si chiama un neuro device quindi un micro chip implantabile nei pazienti con malattie neurodegenerative e quello che fa è fa un record in tempo reale delle onde elettriche che poi sono quelle che permettono ai neuroni di comunicare questo viene usato nei pazienti poi per avere una comprensione in tempo reale di quella che è la situazione e quindi poter agire su quelle che sono le problematiche pensate a problemi neurologici sul paziente quindi qua si va verso una delle parole che magari avete spesso sentito che è la medicina di precisione quindi sul paziente e finisco con un esempio che mi coinvolge una start up che ho fondato io Yamatera Purix che ha sviluppato una molecola che tra pochi mesi inizio dell'anno prossimo entrerà in individui quindi in fase clinica per il trattamento dei sintomi dei disturbi del neurosiluppo quindi parliamo di autismo parliamo di down syndrome parliamo di epilessia e questo perché il machine learning? beh dovete pensare che lo spazio chimico cioè il numero di molecole che idealmente possono diventare un farmaco è 10 alla 60 quindi un numero enorme ok 1 con 60 e noi esplorare tutte queste possibilità ci vorrebbe un tempo infinito quindi quello che abbiamo fatto è usare simulazioni dell'oggetto che andiamo a modulare che è un trasportatore quindi dovete nei neuroni ci sono delle proteine che trasportano gli ioni e controllano poi la funzione e quindi abbiamo analizzato tanti composti velocemente abbiamo identificato un composto che in meno tempo di quello che altrimenti sarebbe stato necessario e con meno costi ovviamente perché stiamo parlando di fare meno esperimenti perché sono più mirati su molecole che hanno più potenzialità di avere successo abbiamo identificato quello che è il candidato farmaco quindi ora abbiamo una speranza di poter aiutare chi ha questi problemi sintomatici e questi sono esempi di tecnologie ovviamente vi sto facendo un po' un overview di quello che il machine learning ha usato su tecnologie veramente diciamo d'avanguardia quindi ci vuole un po' di pazienza e un po' di fortuna perfetto grazie mille a proposito di avanguardia prendo lo spunto per l'ultima provocazione la domanda che mi è stata fatta più frequentemente negli ultimi anni specialmente da genitori è che lavoro deve imparare a fare mio figlio per essere competitivo tra 10 o 15 anni nel mondo del lavoro e io ovviamente non posso dare una risposta perché il 99% delle tecnologie che utilizziamo quando io da piccolo mi domandavo cosa avrei fatto da grande non solo non esistevano ma nessuno ne aveva mai pensato partendo da questo concetto noi produciamo molti più dati di quelli che possiamo salvare e quindi salviamo solo una minima parte di questi dati e i dati che salviamo poi diventeranno i dati con cui addestriamo le intelligenze artificiali quando prima il professor Accoto parlava di chi conosce come funziona veramente chat GPT chat GPT non fa altro che stimare probabilisticamente la parola da mettere alla fine di una frase continuando in modo iterativo però chat GPT non so chi l'abbia mai utilizzata in un ambito nel quale è specialista è addestrata sull'uomo medio è addestrata sul contenuto che ha trovato mediamente sul web ma se utilizzata per fare qualcosa di veramente specifico fa un po' ridere fa un po' ridere nel senso che se io la utilizzo per scrivere codice il codice che fa fa schifo non è efficiente ha dei buchi di sicurezza e così via se io chiedo a chat GPT di scrivere come Dante scrive un qualcosa in endecasillabi che la maggior parte delle volte non sono neanche endecasillabi ma non sa fare la divina commedia nuovamente però ovviamente lascia aperto un tema tutto ciò che è medio non servirà più sa fare molto meglio di noi qualcosa che mediamente noi sapevamo fare il problema è che la nostra scuola e non solo ci porta ad avere un livello medio nelle cose che facciamo e tara la formazione sulla media sulla media della classe sulla media degli alunni quindi la provocazione che vorrei lanciare a tutti i panelist più nella parte vivere che lavorare dell'intelligenza artificiale è come vedete il futuro della formazione in un contesto nel quale l'intelligenza artificiale mediamente sa fare le cose meglio di noi ovviamente non quelle in cui siamo specialisti ordine a caso un minuto a persone forse posso iniziare io perché io sono ottimista su questo noi abbiamo i ragazzi che vengono a fare il dottorato da noi copriamo 60 paesi nel mondo è molto internazionale e i ragazzi oggi arrivano al contrario di pochi anni fa e c'è una gran voglia e preparazione di voler fare machine learning c'è un consorzio europeo di cui siamo parte con top institution da Cambridge Oxford Max Planck Institute ETH e PFL in Svizzera e i ragazzi girano per imparare a fare machine learning quindi secondo me quello che state cercando sta arrivando quindi in questo senso io sono ottimista e l'eccellenza viene fuori è vero che il machine learning permette di fare quello che hai detto tu è giustissimo poi alla fine però il contributo umano verrà fuori quindi l'eccellenza di chi vuole fare chi si prepara a mio parere la vedo venire fuori dai ragazzi quindi io quando ho queste soddisfazioni perché poi alla fine il machine learning ha bisogno di qualcuno che poi inizialmente quantomeno lo implementi io sono io vedo positivamente questo sviluppo ecco non sono spaventato onestamente anzi sono entusiasta del potenziale che vedo e ricordiamoci sempre come ho detto prima che ci sarà un periodo in cui in alcune applicazioni abbiamo già tanti dati e l'applicazione stessa è un po' la media ma quando vogliamo andare e quindi a quelle applicazioni che ci possono spaventare abbiamo ancora un bel po' di strada da fare non è così immediato non succede domani ci sono casi molti casi complessi in cui in verità noi lavoriamo in scarsità di dati e dobbiamo e vogliamo applicare machine learning ma in scarsità di esempi non ne abbiamo così tanti di esempi quando parliamo di cose complesse quindi io dico che abbiamo ancora tempo per imparare e i ragazzi secondo me arriveranno fuori molto preparati perfetto direi filosofia informatica così tiro un po' l'acqua al mio mulino se le trasformazioni sono profonde è chiaro che noi dobbiamo applicare pensiero pensiero critico produzione di senso e di significati nuovi per questo umano che si trasforma e poi l'altra cosa direi ai genitori lasciate giocare un po' i vostri figli a videogame perché a voi sembra un'attività forse inutile e invece magari quello è uno dei lavori del futuro se il lavoro del futuro sarà legato alle tecnologie delle realtà aumentate magari un ragazzo che adesso ci gioca potrebbe invece essere come dire la passione che si trasforma in lavoro perché i lavori del futuro non sappiamo quali sono ma citando le ingegnerie quelle lì delle realtà aumentate ed estese saranno una di quelle sicuramente su cui lavoreremo quindi direi filosofia ingegneria è un po' di videogame come diceva ma io credo per rispondere anche alla domanda che facevi Michele che lavoro che cosa dovrebbero studiare forse imparare ad imparare ecco è la tenersi sempre un po' curiosi un po' vivi aperti con voglia di di accogliere nuove sfide e credo che l'intelligenza artificiale in particolare quella generativa anche ci aiuterà a un ritorno un po' all'umanesimo all'umanesimo digitale libera un po' accorcia i tempi di quello che è diciamo il lavoro rutinario operativo scrivere report riassunti ma forse proprio per questo lascia un po' più spazio alla creatività come il singolo si potrà distinguere quindi anche io sono positiva credo che impatterà sulle nostre menti in maniera sì di liberare un po' la creatività e quel ritorno all'umanesimo che per tanti anni abbiamo anche sognato perfetto mi unisco alla positività e all'ottimismo dei panelist qui a mio fianco e mi aggiungo solo un piccolo dettaglio che magari è stato toccato ma mi piace sottolinearlo quando si parla di intelligenza artificiale questa fa in pratico modo quella generativa questa fa qualcosa ma in realtà non sa cosa sta facendo perché sostanzialmente questo punto per me è importante perché fa la differenza tra quello che invece noi facciamo e sappiamo di fare quello che invece l'intelligenza artificiale la generativa in particolare fa qualcosa ma è banalmente scusate banalmente una relazione o un risultato mediamente statistico quindi non sa esattamente quello che fa questa per me è la differenza e colgo lo spunto dell'ultimo intervento perché probabilmente questo probabilmente che potrebbe essere utile imparare e imparare da ingegnere questa è sostanzialmente la motivazione per la quale darei dei suggerimenti a chi oggi studia sostanzialmente di imparare a studiare perché domani anzi oggi ci sarà qualcosa di nuovo da studiare oggi si chiama CERGBT fra sei mesi sarà soppassata da qualcos'altro probabilmente e dopo sarà qualcos'altro ancora quindi l'importante è rimanere curiosi l'importante è rimanere attivi e non arrendersi alle difficoltà perché ci sono non male che ci siano ma è importante e questo fa la differenza dell'umano rispetto alla macchina che la macchina quando trova una difficoltà si pianta schermata blu per fare un esempio molto semplice l'umano no va avanti almeno per ora perfetto dottor consiglio gli ultimi 30 secondi in chiusura in 30 secondi per me sono tre la prima l'esperto di cyber risk perché sarà un problema crescente in maniera progressiva la seconda ingegneria delle telecomunicazioni perché in questo momento ci siamo focalizzati tutti sui dati e sui software ci siamo un po' dimenticati backbone e i dati sono esplosi in maniera molto più che proporzionale rispetto alla capacità dei network di gestirli e la terza è il ministro dell'istruzione così rimette un po' di tante ore di educazione civica obbligatoria nelle scuole perché se i robot devono imparare dobbiamo essere attenti a cosa gli insegniamo perfetto grazie mille dottor Consiglio grazie mille a tutti i panelist grazie a voi grazie a tutti i nostri ospiti grazie anche a Michele Grazioli per il vostro intervento grazie a tutti i nostri ospiti